Lasci, lo faccio io. Oh, grazie, giovanotto. Ecco fatto. E hai trovato uno buono. Grazie. Come vi siete conosciuti. Veramente noi non... È stato in un aeroporto, che ci creda o no. Davvero? Sì, vede, il suo telefono era morto. Le ho offerto il mio caricatore e abbiamo cominciato a chiacchierare. Da cosa nasce cosa e... E da allora lui ricarica le mie batterie ogni volta. Oh, buon per voi. Comunque, vi auguro un buon volo.